Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Chiara Ferragni e Fedez, crisi già prima del Pandorogate Secondo indiscrezioni, il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe finito ben prima dello scandalo del Pandorogate. Pare che i due fossero già in crisi da tempo. Gianluigi Lembo, voce della NEMA e Core Band frequentata da VIP, ha rivelato di aver visto i due ex coniugi litigare spesso nel locale di Capri. Ferragni, che secondo i pettegolezzi avrebbe una relazione con Silvio Campara, frequentava il locale insieme a un gruppo di amici, anche recentemente. Lembo ha ricordato le frequenti discussioni pubbliche tra Chiara e Fedez, avvenute molto prima dello scandalo del Pandorogate. In un'intervista a MoMAG, Lembo ha svelato retroscena avvenuti nel locale, confermando che già la scorsa estate si percepiva che qualcosa non andava tra i due. Ricordo la scorsa estate, quando non c'era ancora aria di crisi matrimoniale, che lei e Fedez battibeccavano spesso. Insomma, si percepiva che non tutto andava per il verso giusto, ha dichiarato il cantante. Le voci sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez si sono intensificate, con indiscrezioni che parlano di una situazione difficile già prima dello scandalo del Pandorogate. Resta da vedere come evolverà la situazione tra i due ex coniugi e se confermeranno o smentiranno.